amiche ed amici della lettura salve ho una domanda per voi è possibile nascondere un segreto all'interno di un'opera d'arte sia essa un quadro una scultura o addirittura una villa o un palazzo chi lo sa è di questo che parleremo oggi e ne parleremo con un esperto la persona che ha scritto un saggio molto interessante dal titolo i segreti nascosti nelle opere d'arte oggi con noi c'è alessio azzeni quindi direi di dare subito un benvenuto ciao alessio come stai ciao fermati solo un istante per iscriverti al canale e attivare la campanella questo tuo contributo è fondamentale per me e per i miei ospiti grazie ciao alfonso bene molto bene ti ringrazio ti ringrazio per avermi invitato sono molto contento le interviste mi danno mi danno entusiasmo mi danno il bello del mettersi in gioco di parlare del nostro lavoro dei nostri della nostra grande passione sì che grazie di avermi invitato e io ringrazio te per aver accettato l'invito mi rendo conto che a volte esporsi è come dire può dare può dare delle aperture nella vita privata delle aperture delle critiche però come si dice se non si fa non si non si crea e se non si crea non si viene criticati alessio partiamo dall'inizio per chi non ti conosce chi è alessio azzeni alessio azzeni da dove comincio perché tutto è iniziato è iniziato tanto tempo fa però mi sono accorto in tempo di social che alessio azzeni al di là senza entrare nel significato della nostra vita entrare in discorsi subito filosofici alessio azzeni digitando i social uno scopre forse sarà successo anche a te o a tutti noi che quando digitano il proprio nome poi ne viene fuori una fila interminabile di alessio azzeni alessio azzeni ma io chi sono cioè sono il nome che porto sono il mio nome cognome perché è successo questo alessio azzeni io ho scritto questo è il secondo saggio ci tengo a dire che tutto quello che io realizzo lo faccio a quattro mani con mia moglie con evelyn che che siamo un androgino siamo quella medusa che è nella copertina che dopo facciamo vedere alessio azzeni esiste un altro alessio azzeni scrittore quindi mi è capitato per esempio di dover autografare dei libri che non sono i miei allora poi dopo vi racconto è successo in spiaggia rieris che cosa proprio recente c'è un alessio azzeni che non sono io che è nato in una data simile alla mia vive in sardegna scrive poesie quindi sto facendo anche pubblicità ma vi voglio dire io parlo di arte arte filosofia formazione legata esoterismo curiosità misteri tante cose interessanti però non sono quella del suo azzeni allora non siamo il nome che portiamo non siamo il cognome chi siamo perché effettivamente se andiamo a vedere questa questa strana lista di persone non siamo il nostro quindi io chi sono sono quello che faccio quindi faccio lo scrittore faccio l'artista faccio l'insegnante il babbo perché il marito il ruolo che portiamo ma chi siamo chi può dire chi siamo e io sono l'ultima persona che riesce a definirsi perché a volte mi sveglio la mattina un po come quando succedeva non so se è successo anche a te alfonso a voi che ascoltate di svegliarsi nel letto di non capire bene dove siamo e anche chi siamo cioè se quell'istante a volte succedeva più da ragazzini non lo so chi sono sono una persona che fanno esperienza sono una persona che cerca di fare esperienza più possibile cercando nell'etica nello studio mi piace molto ho scoperto questo da subito questo amore per l'arte e sono sono una persona che fa tante cose con con grande passione però ripeto siamo il nostro nome e il nostro chi sono sarebbe un bel gioco per esempio non posso girarti la domanda mi stai facendo un'intervista però se chiedessi chi sei la domanda potrebbe potrebbe essere divertente a tutti voi cioè siete quello che fate il vostro lavoro il ruolo è difficile rispondere a questa domanda che ti rispondo che non lo so chi sono anzi se continui a parlare fra un pochino non so nemmeno più dove abito so che so che l'arte salva la vita e l'arte salva la vita perché così come ogni disciplina artistica così come ogni cosa che si può fare con le mani si può fare con il corpo si può fare con la mente si può fare con un approccio intuitivo e allora c'è un detto a me piace tantissimo cito lo cito spesso anche nei miei corsi nei video corsi nel nella mia trasmissione televisiva che io curo un programma su tele romagna e curo cito saul stember che dice che l'arte è una sfinge è una sfinge significa che l'arte è una sfinge e che può dare mille risposte e può darsi che nessuna risposta sia quella esatta che non ci porti alla verità però la sfinge questa sfinge ci salva perché noi nel nell'indagine intuitiva che andiamo a guardare meditare un'opera d'arte a contemplare sui colori sulle forme la composizione sui segreti misteri se ci sono non è detto che ci siano e entriamo in un campo che può essere anche frutto di fantasie di sofismi di convinzioni di voler però a volte ci sono delle cose che lasciano aperte delle spalancano delle porte e allora spalancare una porta aprire aprire qualcosa quel grande punto di domanda che è il mistero può essere un'indagine e quando si cerca cercare già trovare da mettersi a cercare qualcosa vuol dire trovare molto di più di quello che cerchiamo sì che adesso è un cercatore vale per il viaggio che il punto d'arrivo e infatti ne il punto d'arrivo non c'è anche quando siamo arrivati imprendiamolo come uno scalino perché c'è sempre un altro scalino anche quando ci sembra di essere arrivati chissà dove c'è sempre molto di più non si arriva mai è una vetta è una montagna che non ha una cima è vero è vero che il traguardo è un po' una delusione e quindi godiamoci il viaggio godiamoci il viaggio perché è quella la felicità meraviglioso poter riuscire a gustarsi ogni ogni momento come diceva michelangelo michelangelo bisogna vivere con il sentimento come molto filosofico come se fosse l'ultimo l'ultimo giorno bisogna vivere con il per lui diceva in maniera pessimista ma molto creativa come se fosse con il pensiero della morte come se ci sta per prendere perché così vive intensamente e anche magari andare a cena a perdere magari andare a fare l'aperitivo con gli amici michelangelo lo invitavano per le serate insieme le vedeva come perdite di focus di tempo non che non amasse fare quello però poteva essere un motivo di distrazione di perdita di focus di concentrazione non onori più quella musa che l'arte da cui sei consacrato sono persone che sentono l'arte come un fuoco un fuoco che viene alimentato inestinguibile che da che da un senso alla vita senza quel fuoco ci si spegne un po lavoro alessio come è nata la tua passione per l'arte la passata l'arte è nata con me io sono nato con come tutti voi io penso anche tu alfonso e tutti quelli che ci stanno ascoltando se ricorderanno o gli avranno detto o si ricordano vedono i propri figli anche con il pennarello nelle mani con una penna i colori a spirito pennelli da piccolini tutti noi prima di saper di imparare a parlare camminare sapevamo già tracciare e con la gioia l'entusiasmo negli occhi tutti i piccoli artisti così ho cominciato la passione per l'arte è quella fortunatamente ognuno sente che ha delle diciamo delle predisposizioni io ho sempre anche delle predestinazioni io ho sempre avuto un sentimento ho cullato questa ho sempre sentito questa cosa che l'arte era la mia strada anche artisticamente io ho fatto faccio l'artista faccio artista e qui potrei dire sono perché fare una cosa è essere artista è diverso da farlo io lo faccio lo sono perché mi sento tale mi sento artista nel creare nel pensare nell'immaginare nel nel vedere le cose nel viverle allora nascendo mi sono accorto con gli insegnanti i familiari che c'era una sorta di stupore per quello che facevo e tutti i figli sono nascono sembrano sempre dei fenomeni sembrano sempre nel mio caso a un certo punto mi sono quasi convinto anch'io perché sentivo le lodi e per me è stato un una leva sentire quanto piaceva quello che facevo i disegni una leva per essere anche gratificato per essere mettersi in mostra per e ho coltivato questa cosa fin da piccolo sicché è diventato è diventata la mia espressione principale l'arte la pittura il disegno anche la scultura amo tantissimo essere artisti che cos'è e vivere in questa maniera creando e superando i momenti per esempio quello che tutti a noi a tutti noi è successo anche i più bravi anche i quelli che si pensano di avere critiche critiche feroci essere presi in giro sentire che stiamo facendo cose sciocche da bambini oppure la critica di un maestro in buona fede di un professore in buona fede che può avere umiliato in genere con la scuola la maggior parte di piccoli artisti comincia comincia a mettere via i fogli colori perché c'è il rischio di essere umiliati o presi in giro questa è una delle prime cose perché oppure i familiari ti dicono a ma tu non ci sei portato sei come me lascia stare c'è questa cosa genetica che sembra che se non sei geneticamente programmato non puoi fare l'artista oppure i genitori o gli insegnanti riversano c'è una strana proiezione centone insegnanti definiscono gli allievi in base alle proprie caratteristiche succede e succede che molti abbandonano perché legano all'arte intanto un'emozione negativa perché c'è un grande entusiasmo disegnare dipingere è qualcosa che è un espressione intima è proprio un aprirsi è come un confessarsi e quando si ci si mette così a nudo ci si sente magari presi in giro pure chi prende scarabocchiamo il tuo foglio perché non va bene ecco si lega si lega a questo a questo trauma che è un vero e proprio trauma il rifiuto all'arte molti mollano così poi c'è un'altra dinamica e magari ne parleremo che è legata alla storia dell'arte perché la storia storia già la parola storia è una bella cosa perché l'uomo l'essere umano vive di storie vive per le storie una bella storia dà senso alla giornata ci ci riempie ci insegna una storia dell'arte leghiamo la storia dell'arte la noia c'è la noia mediamente parlo non per tutti ovviamente delle solite cose le solite cose dette nello stesso modo dette nella stessa maniera con paroloni a volte rotolanti che a volte sono le parole sono possono essere chirurgiche devono essere precise se sono tecniche quindi servono ma devono servire a creare in noi immagini emozioni insegnamenti ma quando ci confondono o ci mettono fuori strada o sentiamo che non sono proprio vere allora diventa noia e la storia dell'arte per la maggior parte delle persone è noia oppure parole difficili parole difficili è un linguaggio che non interessa più perché legare delle bellissime immagini ma immagini meravigliose o di una profondità vedremo poi caravaggio vedremo botticelli michelangelo a queste immagini legare delle parole che ci confondono può essere qualcosa di limitante qualcosa veramente di castrante le persone non non interessa più l'arte e le parole possono aprire gli occhi o chiudere cioè se ti aprono gli occhi c'è stupore c'è meraviglia c'è qualcosa che c'è un'energia che si muove se ci chiudi gli occhi o cala l'interesse allora quella storia non è più bella da raccontare nemmeno da ascoltare infatti la maggior parte delle persone rifiuta la storia dell'arte perché è di nicchia perché per un'elite per pochi e per intellettuali e per menti sapienti per tecnici quindi ascoltiamo più volentieri critici che possono essere più spettacolare di altri perché ci danno magari un'emozione in più perché altrimenti il professore tipico di storia dell'arte può essere può essere legato comunque alle cose che deve dire che si devono dire cioè c'è qui entriamo in una polemica in una provocazione nel senso che io essendo un ricercatore indipendente indipendente significa che non sono legato a nessun tipo di di ente pubblico privato che mi possa dire che cosa dire che cosa non dire io non percepisco stipendi da nessun tipo sono totalmente libero di dire quello che voglio allora in questa libertà io mi concedo il lusso di fare ipotesi a volte azzardate sulle ali dell'intuizione dicendo sempre che questa sfinge che noi andremo a interrogare quindi questa sfinge che ti darà mille interpretazioni potrebbero essere tutte sbagliate o qualcuna giusta può darsi che non ci porti alla verità ma che ci salva ci salva perché ci aiuta a vedere il mondo in maniera diversa quando noi stiamo sulla mattina una delle poche cose delle cose brutte che sono nella diciamo nella depressione nel quotidiano nell'abitudine non avere più voglia di fare o vedere che le giornate sono tutte uguali vedere che non c'è più nulla o poche cose che ci piacciono nell'arte per esempio nel mondo nella lettura artistica che propongo che farò vedere avrà modo di dimostrare con il libro con le conferenze con le interviste con il mio programma anche su tele romagna è di far vedere che l'arte è una continua è una sfinge che ci stimola ci muove nel profondo da un senso alla vita diceva leonardo da vinci che una giornata ben vissuta da un lieto dormire così come una vita vissuta pienamente da un lieto morire cioè una vita dedicata all'arte in cui si è potuto osservare godere di di un dipinto e lo contempliamo perché c'è dentro il simbolo il tema sacro la composizione i colori la tecnica c'è tutto c'è anche il potere magari imparare a farlo che è una delle cose più belle imparare a dipingere disegnare o a colorare a tenere in mano i pennelli a alla scienza del colore cioè sapere che l'arte può essere una cosa che salva la vita e non che ci fa addormentare su un banco o ci fa sbadigliare o ci fa addormentare il fatto che ci sia questi mistici che erano i nostri i nostri michelangelo che infatti michelangelo diceva nella sua poetica diceva che il l'artista deve essere come quasi santo cioè consacrato a un obiettivo che è quello di onorare l'arte cioè è la una sposa da onorare perché perché così è sacra e allora ogni istante dell'artista sembra che come diceva leonardo sembra che non faccia nulla ma è sempre a elaborare a cercare intuizioni a cercare idee a vedere cose dove gli altri non le vedono a volte c'è il rischio di vederlo proprio che non ci siano non ci sono proprio a volte a volte si scopre che loro hanno giocato molto con questa conoscenza perché immaginiamo una persona che si si dedica un quotidiano vuoto senza studio vuoto nel senso che l'essere umano è un animale tremendo perché si abitua tutto si abitua anche a una vita senza 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 obiettivi senza scopi senza curiosità senza passioni non ci piace nulla ci basta poco poi se la scuola e qui sono se la scuola ci ha abituato che lo studio o che la ricerca il fare domande è scomodo ci ha abituato che il fare domande può essere umiliante e se non imparo a memoria quello che vuol sentirsi dire il mio professore non sono bravo se ho un'intuizione è sbagliata allora veramente mi allontano dalla vera scuola che è quella che lasciamo dopo che ci siamo diplomati o laureati e la vera scuola inizia quando prendiamo in mano dei libri e li prendiamo in mano perché perché sentiamo la necessità di scoprire le cose di capire le cose allora un giorno senza leggere un libro è un giorno perso è un giorno giorno vuoto giorno che ha mancato un obiettivo insomma i libri i libri diceva diceva qualcuno che per esempio certe cose andrebbero vietate prima dei 30 anni perché magari non siamo interessati ma dopo i 30 anni sarebbero obbligatorie io credo che molte persone potrebbero riscoprire la bellezza dell'arte semplicemente vedendo questo nuovo punto di vista che una prospettiva è un punto di vista diverso è un modo diverso qualcuno mi ha detto a volte no sì però è un modo diverso per vedere le opere d'arte mi sembra tanto mi sembra poco se un modo diverso vuol dire che un modo nuovo e modo è una prospettiva che può essere alta e anche sopra diciamo a certe a certe cose che se a cui siamo abituati quindi rompe gli schemi l'arte il libro deve spaccare il mare di ghiaccio che dentro di noi e l'arte deve rompere gli schemi guarda hai toccato vari punti e anche qualche nervo scoperto quindi mi piacerebbe se me lo consenti affiancare al tuo discorso giusto qualche considerazione noi abbiamo l'abitudine di suddividere tutto in blocchi la storia la storia dell'arte però io ho sempre cercato di far insegno italiano storia e geografia no quindi ho sempre cercato di far capire ai miei studenti che la storia è continuo di venire movimento è come l'arte le statue dell'antico egitto quel piede in avanti sta rappresentare il movimento quindi anche se le suddividiamo e si passa da un periodo all'altro da un ad esempio uno stile all'altro è solamente il continuo mutare di una forma di espressione e poi hai ragione quando hai detto che tu facevi accenno diciamo un po a quelli che una volta erano i famosi programmi poi li hanno re etichettati con diciamo la 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 nomenclatura indicazioni proprio alla fine sui vecchi programmi parliamoci chiaramente il l'errore qual è a mio avviso dimenticarsi che l'apprendimento viene prima della nozione e l'apprendimento non è nozionistico cioè apprendere vuol dire fare proprio a mio avviso e quindi a me non interessa quanto è lungo il po a me non interessa quanto è larga una vallata a me interessa la funzione che ha quindi far capire ai ragazzi il perché è importante ad esempio il controllo di un fiume perché ci sono state guerre per il controllo di un fiume piuttosto che di una penisola noi ormai è quasi un anno e mezzo che stiamo assistendo a quello scempio della guerra in ucraina quindi poi c'è una cosa che è veramente molto importante che hai detto tarpare le ali nelle forme di espressione è una violenza è una vera violenza psicologica che viene fatta perché l'espressione può assumere l'espressione dei propri sentimenti può assumere varie forme dalla scrittura alla scultura alla pittura ma anche semplicemente il voler correre e le persone sono capaci di criticare anche le persone che corrono dicendo magari ma vedi a quello sta correndo a chi si pensa è assurdo è assurdo le parole si dovrebbe prima di tutto contare fino a 100 prima di dire qualcosa a mio avviso poi per carità senti di tante domande ce ne sono due che in questo momento mi vengono in mente la prima che cos'è la verità perché hai parlato di verità e a questo punto visto che entrambi siamo alla ricerca di una verità che probabilmente non troveremo mai perché come dicevi la ricerca è il viaggio e c'è sempre un gradino in più e poi vorrei chiederti quando l'artista cede il posto al personaggio e ho un nome in mente ben preciso che ultimamente al centro di varie polemiche come al solito partiamo dalla prima domanda che cos'è la verità per te la verità allora la verità è un domanda importante intanto hai toccato ti faccio i complimenti per la sensibilità all'ascolto che hai dedicato hai sentito che il movimento c'è il mon questo fluire del tempo che movimento è la cosa più spirituale che ci sia perché il movimento ero acro spirito che alleggia sulle acque tutto diceva leonardo che il movimento è causa di ogni vita quindi questo sentire che siamo uniti da uno scorrere del tempo e che la storia è un flusso che può essere connesso e non sappiamo tante volte in che maniera ma sentiamo che siamo tutti collegati bella questa cosa che hai colto e l'insegnante è una figura che io credo che io stimo il professore io stesso insegno ma insegno e ringrazio i professori pochi che mi hanno ispirato che mi hanno motivato che mi hanno fatto sentire che quelle persone con un gesto di affetto o di considerazione o di comprensione o di insegnamento mi hanno fatto pensare io voglio essere come lui da grande e non come magari quelli che non mi hanno ispirato che mi ma l'esempio c'è stato e magari risuonava con me aveva caratteristiche più simili con me e è stata una forma proprio ispiratrice e questa è una cosa importante che volevo dire quindi non esiste solo il professore che annoia esiste professore che che dà un senso proprio la tua vita che ti sarà da ispiratore io ne ho un paio che porto nel cuore anche di più anche tre o quattro che porto nel cuore chi per alcuni insegnamenti chi per altri quindi questa cosa ci tenevo a dire e la verità la verità è una cosa che io ho fatto tante esperienze nella mia vita e la cosa più scioccante è stato rendermi conto che non siamo quasi mai sinceri nemmeno con noi stessi cioè che esiste una dinamica e ho avuto esperienze per cui accenno qualcosa nel libro verso la fine accenno che ho avuto modo di accorgermi che non siamo sinceri ma non ce ne accorgiamo abbiamo una personalità non intesa come senso positivo abbiamo una do una maschera che si si forma da piccoli da scolarizzati la società ce la mette ci mette questa maschera che dobbiamo essere non ci accorgiamo che da bambini supereroi entusiasti felici giocosi desiderosi di imparare perché perché quello la luna vola o chissà che c'è tutto è meraviglia una farò io adoro i gatti perché da cucciolini hanno questa meraviglia per tutto come era il nostro essere da bambini che poi si spegne gradualmente la verità che cos'è è una cosa che quando la tocchiamo la sentiamo non ha bisogno di spiegazioni cioè c'è una risposta animica c'è un brivido un brividino una se un sentire che è la verità è inspiegabile un po come l'intuizione allora io non ho la presunzione di dire che quello che dico nel nel libro siano verità ho messo le mani avanti con questa cosa che poi adesso la ritrovo che di sound standard che è un esercizio che ci salva il fatto di cercare di interpretare di contemplare poi a volte può essere la verità o qualcosa che si avvice o una delle tante perché a volte l'errore più grande pensare che la verità sia una sola ne siamo come detto tu schematici e tendiamo a c'è una verità che esclude un'altra a volte è multidimensionale la verità è vera quella ce ne sono vere tante sono tutte vere perché in genere come la matematica ci dà un risultato invece la verità ne dà tanti e dovremmo accettarli tutti in maniera multidimensionale è una cosa è una cosa difficile da spiegare però il fatto che anche la nostra poi un'altra cosa che hai detto mi è piaciuta il fatto che tendiamo alla specializzazione è la schematizzazione delle ognuno deve sapere tanto di una cosa ma la sconnettiamo dalle altre i grandi maestri avevano una caratteristica che sapevano tanto di tutto cioè la loro conoscenza era in cipo enciclopedica era qualcosa che spaziava da da tutte le conoscenze quelle che riguardano matematica geometria l'astrologia astronomia pittura il saper fare le cose saper far di conto saper costruire qualcosa saperlo montare e smontare un cantiere l'esperienza di cantiere esperienza di bottega cioè c'è una conoscenza poi lo studio della filosofia della lingua l'ebraico poi sull'ebraico ci batterò particolarmente perché esiste questa parliamo sempre di latino di greco italiano e l'ebraico sembra sempre che non esista ma l'ebraico è quella è quella cosa segreta elitaria delle corti che negli artisti più grandi è entrato a insegnare qualcosa che gli fa cambiare livello di percezione mentale razionale ma soprattutto intuitiva perché è una lingua che poi vedremo che è fluttua che da stimolo all'intuizione ed è legata alla conoscenza più antica della nostra società del nostro mondo quindi i grandi artisti avevano questa conoscenza più c'era chi aveva che era cresciuto nelle corti dei medici per esempio aveva il suo l'ingrediente segreto che era la lingua ebraica quindi enorme conoscenza non non schematica non una sola non specializzati ma c'era l'architetto che poteva essere pittore poteva essere poeta poteva essere tutto insieme adesso è impensabile però hanno dimostrato che era possibile come con una formazione che non era quella che dicevamo noi con una formazione a tutto tondo una scuola una scuola gente che comunque era motivata da da un fuoco e da una da un ambiente che li ha fatti crescere in questo modo quindi la verità la verità io non so che cosa sia così come non so chi sono non so nemmeno che cosa sia la verità però so che cosa non è la menzogna e in genere è la realtà di questo mondo è permeata da questo sentimento da questa sensazione che noi abbiamo che io quando sento i telegiornali non sento la verità quando sento le persone in strada che mi raccontano i loro problemi familiari non sento la verità nel quotidiano la verità è una cosa molto rara perché io stesso ammetto ho fatto delle esperienze per cui ho dovuto ammettere esistono delle macchine della verità che sentono il campo elettromagnetico del nostro pensiero dove ha dei dei picchi dove ha delle masse dove è libero dove è neutro esistono questi elettrometri che io da ragazzo ho fatto delle prove per capire ho fatto dei corsi delle esperienze e e ho capito e non mi arrabbiamo anche con me stesso con chi parlavo quando mi accorgevo cioè che c'era qualcosa una massa critica nel mio pen dicevo una bugia ma era una bugia talmente raccontata bene che io stesso ci credevo però alla fine quando è la verità si sente perché perché il movimento che causa di ogni vita si sente un flusso un'emozione che sale dalla pancia del plesso solare ci sentiamo vediamo me sentiamo meglio l'essere il corpo reagisce alla verità così come reagisce alla menzogna quando siamo veri quando siamo sinceri passa qualcosa si sente qualcosa quando siamo bugiardi il nostro corpo così come pinocchio fa crescere il naso il nostro corpo da dei segnali per cui la nostra menzogna viene sempre rivelata per questo la conoscenza è fondamentale la conoscenza enciclopedica cioè un artista non può pensare di pensare solo ai colori la formazione non è solo del colore del pennello della matita o di come si copia qualcosa come si deve essere nell'osservazione totale di chi abbiamo intorno e nella formazione a tutto tono quella che dicevamo prima allora la comunicazione perché se io parlo una persona devo sapere se è sincera devo sapere se si tocca in qualche maniera se si muove in qualche maniera come si muove è bello sapere che viene definito il corpo il guanto dell'anima perché il corpo è sempre sincero se noi diciamo delle sciocchezze allora il corpo si muove in un determinato modo a rivelare un disagio una bugia allora imparare a osservare vuol dire imparare a disegnare ma imparare anche a vedere che abbiamo di fronte come reagisce a quello che diciamo quindi è importante la formazione a tutti i livelli e la formazione non finisce mai un giorno che non abbiamo studiato abbiamo imparato almeno tre cose un giorno perso e finisco con questa cosa che anche qui hai colto bellissima sulla comprensione delle cose perché le nozioni possono servire servono ma sono dei servi le nozioni la vera cosa che è importante è la comprensione perché se ho compreso una cosa lo dice la parola l'ho presa e mia e nessuno io riesco a rispiegarla facilmente una cosa una nozione la posso dimenticare ma quando ho compreso una cosa la posso ridare a chiunque come l'ho presa io la comprensione vera è l'obiettivo di quello che che io insegno e di quello che scrivo che tutti possano comprendere perché quando non facciamo capire qualcosa qualcuno è perché non l'abbiamo capita nemmeno noi allora viva la verità e la comprensione guarda io aggiungerei solamente l'arabo e la cultura islamica per completare il quadro e poi è vero c'è una faziosità di fondo è un po come vedere un panorama attraverso dei vetri colorati cambi il colore del vetro e assume diciamo tonalità diverse e quindi non sai mai che cosa stai guardando e c'è un detto in te lo cito in inglese fake it until you make it cioè fai finta di esserlo fin quando non lo diventi che è un po il male di questa società nel senso che basterebbe essere onesti intellettualmente e c'è un altro problema un'altra cosa che è sollevato importante il problema del io lo chiamo il problema del guardarsi allo specchio solo che ci sono delle situazioni all'interno delle quali ti ci devi ritrovare per forza per capire chi sei veramente si possono fare delle congetture sui nostri comportamenti però poi c'è bisogno del metterci alla prova e un altro punto sul quale concordo molto è prima l'apprendimento era praticamente fino alla morte ed era costante quotidiano invece oggi se sai un po di tanto viene visto come una persona che non sa nulla il problema è che quando si va troppo verticale nella conoscenza si diventa ci si mette dei paraocchi e quindi si vede solo davanti solo sulla propria materia o comunque sulla propria specializzazione e questo purtroppo lo ammetto lo sperimentato col dottorato di ricerca cioè più sono andato a fondo più mi sono accorto che stavo perdendo di vista il medioevo in generale è vero poi ho appreso delle conoscenze specifiche però più sono andato in profondità più certe dinamiche hanno cominciato a sfuggirmi e quindi è un vero peccato perché poi la comprensione dovrebbe essere globale non settoriale quelli sono i sono le nozioni di cui parlavamo prima ho un'altra domanda questa è una domanda impertinente quindi sentiti libero di non rispondere negli ultimi negli ultimi giorni c'è stata un po la un po una polemica che ha visto come protagonista vittorio sgarbi quando si parla di arte ha torto a ragione ci viene in mente lui e al di là di quello che ha detto che può essere diciamo interessante oppure no sono sono opinioni a mio avviso io li vedo che il personaggio ha preso il sopravvento non dico sull'artista ma sul sull'esperto sul critico e quindi la critica non è più quella critica oggettiva quella critica costruttiva ma è diventa una critica molto soggettiva autoreferenziale e distruttiva però l'arte non è un mondo che conosco appieno quindi chiedo a te la tua opinione allora io non ho seguito ultimamente gli ultimi giorni ho seguito in maniera superficiale ho sentito qualcosa qualche polemica però non ho non ho ben chiaro il motivo della di cosa sia successo relativamente a sgarbi però immagino se nel mi vuoi dire la frase incriminata o l'argomento no va bene lì è andato a ruota libera dal se si va dal sessismo alle accuse da morgan la cosa con morgan si si le donne quante donne hanno avuto allora beh allora sgarbi è un personaggio è una persona che la persona che ha parlato tanto di arte diciamo che uno di quei divulgatori nati con la tv io mi ricordo facevo la scuola d'arte e vedevo già sgarbi a malizio costanzo show e nasce come personaggio poi io posso dire che spesso si dice che i critici siano artisti falliti e la cosa che mi ha colpito è un po che il fatto che si metta fra gli artisti adesso lui diventato artista perché personaggio allora si diventa e conosco tanti sedicenti artisti perché diventano personaggi diventano persone che stanno sanno stare sanno tenere un palco sanno affascinare con racconti o con con un'arte che può essere legata al teatro io non lo so non so bene so bene che se guarderai quando guarderemo i segreti nascosti in opere d'arte mi occupo delle opere d'arte del rinascimento è una scelta perché io nell'arte contemporanea non trovo gli stimoli non trovo la verità quella che quella che dicevamo prima trovo invece la provocazione l'escamotage il colpo il colpo qualcosa che deve far parlare deve stupire per forza scioccare e allora io mi dedico all'arte oggettiva perché c'è un grande maestro un mistico turco armeno che si chiamava si chiama gorge george ivanovici guru jeff che gorge ha detto questo tra le tante cose ha detto che esiste l'arte oggettiva e l'arte soggettiva l'arte oggettiva allora l'arte soggettiva è quella che comunemente vediamo praticata o dagli hobbisti o da gli artisti contemporanei che secondo me sono come gli hobbisti me compreso perché non mi sento a livello di bichangelo di donato cioè che mettono nella loro arte se stessi mettono proiettano la loro arte sentimenti emozioni la loro cultura quella poca che abbiamo in confronto a questi mostri sacri e viene fuori qualcosa di soggettivo che qualcuno piace a qualcuno non piace qualcuno fa schifo qualcuno ne parla però è soggettiva l'arte oggettiva la riconosciamo tutti in base al nostro grado di conoscenza ed è un'altra e l'arte oggettiva è ne cito qualcuna di fronte alla alla grande sfinge è qualcosa che nessuno può rimanere di fronte al grande sfinge può rimanere indifferente dire non mi piace mi fa schifo si sente qualcosa che passa oltre alla crea alla creazione di fronte al davide di michelangelo si prova qualcosa che è animico e che oggettivo di fronte alla gioconda o di fronte alla conversione di san paolo di caravaggio faccio per degli esempi ci sono delle opere d'arte che sono oggettive e l'arte oggettiva comunica tutti la stessa cosa in base al grado di conoscenza perché noi abbiamo una caratteristica che il cervello vede quello che sa se una persona sa tante cose vede più cose relativamente a quello che sa se ne sai di meno vedrai meno ma vedrai comunque quelle cose quindi l'arte oggettiva che è provocazione che è trash che è volgarità che è perversione che va a smuovere nel fango nel marasma dell'uomo nelle bassezze o proprio nelle stupidità a me non interessa cioè non mi non rivolgo la mia attenzione a quello rivolgo la mia attenzione a qualcosa che mi eleva lo spirito che mi porta in alto mi fa salire qualcosa che mi insegna che mi educa che ha un'etica e che soprattutto ha dei segreti veri cioè i segreti che sono quelli della conoscenza cioè tu vedi quello che sai quindi non c'è lì non c'è menzogna perché non c'è nulla di nascosto nei segreti nascosti lo diciamo io mi amo che non ci sono segreti è tutto davanti ai nostri occhi però sei la chiave di conoscenza lo vedi e quando lo vedi è come una porta che si spalanca e ti mostra qualcosa ci sono più più porte che si spalancano e sono tutte grazie alla conoscenza solo che la conoscenza noi abbiamo un problema diciamo in italia che è legata allo studio e leghiamo allo studio qualcosa di obbligatorio di noioso mentre studiare è qualcosa che pulisce la mente durante il giorno cioè studiare la mattina un'ora faccio per un esempio senza arrivare a studiare tutto il giorno ma se studiassimo tutti i giorni studiare vuol dire leggere un libro che ci piace di un'attività che amiamo di una nostra cosa quello studiare scrivere prendere appunti un'ora al giorno ci salva quella giornata ma ci salva la vita se lo facciamo con costanza perché nella costanza negli anni una passione ti fa diventare uno dei massimi esperti di quella cosa perché non ci vuole tanto ci vuole costanza passione curiosità studio quotidiano e quello ci salva ci pulisce la mente mentre il non fare diceva leonardo che se il cervello non lo usiamo è come il ferro che alluginisce se non usiamo e se siamo passivi di fronte cellulare tv informazione lamenti delle persone che ci rubano il tempo quelle giornate ci scaricano ci sentiamo vuoti allora quando si abbassa il livello del tono emotivo mentale energetico non abbiamo nemmeno la forza di riconoscere la verità non sappiamo nemmeno distinguere il vero dal falso e non sappiamo nemmeno distinguere se diciamo sciocchezze se ci presentiamo dignitosamente cioè cambia la luce delle persone se le persone che studiano hanno uno spirito diverso hanno una luce negli occhi ma non intendo solo i professori intendo chi studia può essere il giardinieri che studia come coltivare la rosa può essere l'estetista che cerca di capire come illuminare come far diventare più bella una persona può essere il contadino che vuole coltivare la vigna in una certa maniera cioè chiunque ha una disciplina chiama e che cerca di di renderla migliore e quindi rendendo migliore quella cosa rende migliore se stesso si alza tutto il livello di tutte le persone quello che dico l'arte l'arte la domanda che mi fatto io non riesco nemmeno non io non ho libri di sgarmi nel senso che non ne ho mai comprato uno adoro amo l'arte che la mia risposta sta sta nel nel posso apprezzare il personaggio televisivo posso può avermi fatto ridere possa aver apprezzato il coraggio a volte di certe buttare però poi entro in un in un argomento in questa diatriba che poi c'è stata con credo con morgan ho letto qualcosa a livello di social perché sa io le mie ricerche social sono legate all'arte quindi ho visto qualcosa e ho percepito prova che provocazioni sessiste volutamente a rendere magari l'oggetto la donna diciamo che in questo momento non c'è proprio bisogno di questo nel senso che beh direi di non dati gli ultimi eventi alessio pensavo non siete stati fatti per vivere come persone rose ma per conseguire lì ma a conseguire la virtù e la conoscenza perché lì bruti sta per rozzi non barbari senti e io voglio perseguire questa conoscenza quindi ti chiedo i segreti nascosti nelle opere d'arte partiamo dal titolo perché hai scelto proprio questo titolo segreti nascosti nell'opera d'arte perché c'è una sorta di di gara in tutti i libri negli ultimi vent'anni in cui ci si sono promesse che in questo libro ci saranno segreti rivelati ed è un diciamo un marchio di questo di questo tipo di libri in questa pubblicazione la cosa che poi succede è che si comprano questi libri si leggono e si trovano sempre le solite cose sempre quelle e vi dico quali sono le dita michelangeles che del libero arbitrio leonardo che erano inconcludente che non finiva mai nulla e poi c'era quel caravaggio quel caravaggio che era un assassino ecco i grandi segreti di questi libri allora i segreti nascosti può essere un titolo già sentito se li nascono opere d'arte ma tutti promettono questo ma nella mia introduzione l'introduzione c'è la promessa che i segreti che vengono rivelati devono essere chiari oggettivi visibili a tutti c'è un range magari di mistero o di quando si entra nella mistica ebraica nella cabala si entra in un argomento che non diventa non è più razionale quindi qualcosa si deve accettare qualcosa che è spirituale quindi non ha forma quindi non entriamo proprio nell'oggettivo però c'è la promessa che se delle opere più famose se sono in grado di raccontarti una cosa che hai davanti agli occhi ma non l'hai mai vista nonostante fosse davanti ai tuoi occhi e dal momento che ti viene rivelata ti viene spiegata la cosa incredibile è che comincerai a vederla sempre cioè tu guarderai quell'opera d'arte la prima cosa che vedrai è quella che non hai mai visto solo perché ti è stata indicata questo è il motivo del titolo i segreti nascosti nelle opere d'arte è una promessa che chi leggerà questo libro avrà tante rivelazioni che potrà vedere sempre su alcuna ci può essere quella famosa sfinge che può non portarti alla verità ma su qualcuna diciamo che il sentire quell'opera d'arte te la potrà cambiare migliorare rendere kaleidoscopica oppure se prima la vedevi piatta diventa tridimensionale la puoi vedere anche dietro la puoi vedere dall'alto dal basso cambia forma è così le opere d'arte sono qualcosa di multidimensionale diventano quantistiche per questo segreti nascosti perché perché ne riveliamo tanti e senza paura delle critiche delle critiche le critiche fanno male le critiche danno fastidio ma qui c'è un qualcosa più alto da servire e la critica io ho scritto col cuore quando scrivi col cuore ti può arrivare una critica che buonaria non credo ci possa essere una critica cattiva se ci sarà sono pronto io penso che siano più gli apprezzamenti perché la sorgente da cui arriva questo libro è quella più alta da cui ho potuto attingere abbiamo potuto attingere io e mia moglie un'opera maschile femminile è un'opera che vede le energie di due persone che uniscono le conoscenze i saperi le intuizioni ed è una creatura tra virgolette talmudica il talmud è qualcosa che viene fuori quando di una cosa se ne parla a tavola o durante il quotidiano durante il giorno perché stiamo pensando o cercando intuizioni su qualcosa nel parlare e viene fuori qualcosa che nelle scuole potrebbe essere incentivata cioè la discussione delle cose alla ricerca di quel famoso brainstorming che che fa venire fuori nuove idee nel parlare l'altra persona che le capti nel campo o che le butti la ci fornisce le risposte a noi e noi le forniamo all'altra persona c'è uno scambio un'interazione che unisce e moltiplica le forze quindi un'opera dice io ci tengo a dirlo perché è scritta a quattro mani a due cervelli due cuori e con mia moglie quindi un'opera maschile femminile molte cose sono frutto di un'intuizione femminile a cui non sarei mai potuto arrivare e viceversa perché l'uomo e la donna sono diversi e anche se io dentro di me ho una parte femminile ognuno di noi ogni donna una parte maschile riuscire a creare qualcosa in questa maniera crea l'opera d'arte secondo me diversa più completa io non avrei sarei stato più maschile quindi più più presuntuoso più prepotente più aggressivo invece la donna è più più fluida è più moderatrice è più morbida quindi è riuscita a dare un aspetto infatti un aspetto più accettabile meno più bello insomma per usare per usare un termine esoterico si è creata un egregora è creato proprio un figlio questo è un figlio proprio un figlio spirituale un figlio fisico noi abbiamo una figlia adolescente grandina che è una discreta opera d'arte con i suoi segreti nascosti e poi abbiamo un'altra creatura che è arte del risveglio il primo saggio che abbiamo fatto insieme e poi c'è i segreti nascosti sono figli oltre che egregore sono proprio creature vere e proprie che sono erano già diciamo nella in qualche altra dimensione ma ce ne sono altre nel medioevo quando si usava l'aratro pesante non si mettevano mai due buoi maschi si metteva sempre un maschio una femmina perché il maschio tirava d'impeto la femmina invece calmava l'impeto e quindi il lavoro procedeva con una certa diciamo con un certo equilibrio senti vorrei chiederti vorrei chiederti una cosa e questa è la famosa comprensione no mi piace questa cosa mi piace me la scrivo dopo me la scrivo è perché è una cosa che troppo bella perché l'aratro e i buoi e il gioco sono simbolici sì e che sia anche in questo caso così contadino così romagnolo così italiano che ci sia questo questa particolarità mi piace molto mi piace molto grazie tra l'altro l'aratro che solca la terra è proprio c'è poi una bella poesia ma non ricordo bene l'autore che dice il l'aratro lasciato a metà del lavoro è legata alla prima guerra mondiale senti vorrei approfondire un attimo i segreti nascosti nelle opere d'arte ci puoi raccontare un aneddoto legato al libro a un aneddoto un aneddoto è che nel cercare per esempio un aneddoto simpatico allora io sono costretto a dire io e mia moglie vivo in simbiosi con lei e in simbiosi costante perché creativa anche nei dipinti anche nei disegni anche in molte commissioni nell'insegnamento nelle preparare lezioni e nel nello scrivere noi cerchiamo i segni i segni perché viviamo la vita in maniera molto diciamo intensa e spirituale spirituale quando è che una vita la consideriamo spirituale cioè quando in ogni giorno cerchiamo ci ricordiamo della gratitudine di riconoscere la bellezza di di essere grati di quello che c'è di quello che abbiamo della salute ma ci chiediamo dei segni cioè i segni sono quelle quelle cose che ci accadono a cui potremmo non prestare attenzione ma fra le fra le righe o nelle coincidenze c'è una parola coincidenza che sembra il caso sempre tutto legato al caso ma la coincidenza in geometria è un incontro perfetto di per esempio di due i due punti geometrici che si incontrano solo lì e che allora chiediamo i segni nel chiedere i segni nel chiedere chissà quando si cerca allora una casa editrice che pubblichi un libro tu puoi mandare il manoscritto può interessare non interessare puoi avere una risposta come no esistono come nell'art io facendo l'artista c'è il gallerista che ti fa fare una grande mostra a pagamento ti fa fare una mostra ti fa pagare e quello è quello l'artista che paga per esporre un artista che è destinato a impoverirsi devi trovare il gallerista che crede nell'artista che che compra le tue opere e che ti promuove come scrittore esiste la stessa cosa esiste la casa editrice che ti fa pagare e esiste la casa editrice che credente e che investe allora abbiamo cercato mandando il manoscritto a tante case editrici quella che quella che ci doveva rispondere in maniera etica quindi la maniera etica era ci piace il vostro libro lo pubblichiamo crediamo in voi e andiamo avanti facciamo questa cosa il caso ha voluto che nel leggere allora noi nel libro sveliamo qualcosa legato a botticelli alla primavera del botticelli e c'è un bel capitolo su mercurio mercurio ermes ermetetrismegisto e c'è il dettaglio della primavera che alza il caduce o alza quella verga al cielo e c'è un bel bel passo sul messaggero allora ci arriva questa mail di risposta da di arcos di arcos significa messaggero allora di arcos leggiamo fra le casualità ci rispondono che gli interessa il manoscritto gli piace molto quindi ci fanno anche i complimenti investono su di noi e quindi con la massima diffusione nelle librerie e la casa editrice poi parliamo principalmente di michelangelo merisi e di michelangelo buonarroti anche di leonardi michelangelo vuol dire michelangelo arcangelo michele a questa casa editrice ha sede a sant'arcangelo di romagna sant'arcangelo è il luogo in cui io mia moglie ci siamo sposati alla pieve di sant'arcangelo allora come come aneddoto come segno e ne avevamo avevamo più risposte potevamo anche scegliere qualcosa di magari che si poteva sembrare più grosso più rinoma questa invece di arcos con questa con questa eleganza con cui ci hanno risposto con questa etica un'etica del lavoro imperfetta allora sei in etica abbiamo scelto seguendo il segno di sant'arcangelo che di cui parliamo tanto di questa forza di questa energia di questa energia angelica di questi nomi che michelangelo per esempio michelangelo merisi stato chiamato caravaggio chiamato michelangelo perché è nato il 29 settembre giorno di sant'arcangelo giorno dell'arcangelo michele che era il protettore di quelli che tantissime cose ma anche dei nati in difficoltà di salute quindi ha rischiato di morire è stato chiamato michelangelo e infatti poi insomma diciamo è stato protetto fino a che è stato possibile l'ha protetto l'ha protetto abbastanza insomma e l'aneddoto è questo l'aneddoto è che questa casa editrice ha sede in questa cittadina che noi amiamo tantissimo in cui ci siamo sposati e allora di arcos è il messaggero perfetto per questo libro ne aggiungo un altro piccolo tu hai citato il trismegisto l'autore della tavola di smeraldo la tavola smeraldina e c'è un passaggio che dice come sopra così sotto prima quando io ti ho citato il il laratro in realtà pensavo ancora un'altra un altro simbolismo il cielo e la terra maschile e femminile con l'acqua che cade dal cielo e va sulla terra a fecondare e forse anche questa intervista non è casuale beh no no ti trovo ferrato in argomenti in suami eh sì esoterici esoterico cosa vuol dire vuol dire che diciamo che va un po in profondità che va un po in profondità oltre l'apparenza è una ricerca di una verità altra una verità che va al di là dello sguardo diciamo come in alto così in basso è come in cielo così in terra e poi dove inizia dove finisce questa questa unione è sì l'aratro è diventa un bel simbolo un bel simbolo così come il gioco il bue il lavoro su di sé noi abbiamo questa bestia che è il bue abbiamo questo animale che comunque ci dà si dà impulsi ci dà reattività ci chiede cibo e va comunque diciamo reso alleato amico ammaestrato addestrato come si fa a nascondere un segreto in un'opera d'arte e se è possibile puoi farci un esempio di un'opera d'arte che custodisce un segreto certo me ne posso fare tanti senza annullare proprio ne faccio qualcuno allora come si fa a nascondere un segreto noi siamo abituati a guardare le opere d'arte ma non a vederle e le osserviamo se le osserviamo comunque ci accorgiamo che qualcosa per esempio suscita in noi uno straniamento o un punto di domanda ci sono delle cose strane le opere d'arte la posa certe pose rigide certi movimenti se guardiamo la cappella sistina ci sono grovigli di corpi pose stranissime se guardiamo la stessa primavera del botticelli possiamo vedere nella primavera ma anche nella venere se noi veramente guardassimo l'opera troviamo nelle pose del dei personaggi delle stranezze allora queste stranezze compositive cos'è una stranezza cioè un qualcosa che è leggermente forzato o che suscita in noi una curiosità maggiore allora quando c'è questo bisogna vedere se nel leggere l'opera d'arte nel vederla c'è qualcosa di più oltre nella nostra sensazione se la troviamo che è un aggancio in genere legato quello che io abbiamo scoperto è che è legato maggiormente alla mistica ebraica cioè c'è una radice una comune a tutti i più grandi artisti rinascimentali che è segreta questa cosa perché così come segreto il l'appartenenza delle famiglie ebraiche cioè sempre si cerca sempre di non dire che si è ebrei per mille motivi giustamente che si è perseguitati perché dalla storia c'è sempre stato questo questa paura di essere uccisi o ghettizzati o questa persona li ha fatti proteggere e li ha fatti ha fatto sì che la loro grande conoscenza mistica orale scritta ma soprattutto orale si è stata tramandata nelle corti in segreto in segreto e si è riversata nelle opere d'arte perché i grandi committenti erano colti in genere o erano cardinali o erano patti o erano direttori della sapienza per esempio o erano grandi personaggi che volevano omaggiare la loro famiglia con un simbolismo il simbolismo è una cosa che può essere noiosissima ma può veicolare enormi e intere biblioteche intere librerie intere interi in poche immagini allora l'immagine dice più di mille parole ma dice tantissimo se viene fuori un codice che se riusciamo a riconoscere allora e troviamo un fil rouge da che ci porta per mano a capire alla comprensione allora allora c'è un entusiasmo una qualcosa che viene fuori che fanno i libri io vi dico in anteprima due cose ve le faccio vedere sulla questo è il libro questo è la copertina e se avete una scolta un'opera d'arte lo vedete magari qui alle mie spalle c'è la medusa la dusa di caravaggio famosa che è un suo autoritratto che è un suo autoritratto reso androgeno anche di lei parliamo ma dentro ci sono c'è una sezione molto bella illustrata illustrata che poi vedrete nel dettaglio quando lo acquisterete ci sono spiegati anche queste cose soprattutto il vanto più grande è quello ve lo faccio vedere legato alle lettere ebraiche perché noi siamo abituati a definire il chiasmo il chiasmo la figura quella posa classica che hanno tutte le statue è presa da da una lettera da una lettera greca perché il chiasmo è stato può essere accettiamo che le questa lettera greca gli dà quella quella energia quella fluidità e perché i grandi maestri se quella la statuaria antica è una statua prende il nome proprio da quello nelle opere d'arte non c'è la stessa lo stesso codice in moltissime delle più grandi opere d'arte si riversano le pose già scopriamo che nelle pose della presente della primavera del botticelli ogni figura corrisponde a una lettera ebraica e ora ve ne faccio vedere qualcuna e oltre alla posa al codice quindi lettera ebraica ci sono i giochi linguistici perché un'opera d'arte che era commissionata a botticelli a caravaggio a leonardo a michelangelo doveva essere per il committente per la famiglia che sarebbe avrebbe ereditato quest'opera o per gli enti che l'avrebbero ereditata doveva essere un gioco intellettuale che rappresentava il massimo del prestigio di quella famiglia e della storia dell'uomo cioè non poteva essere un poster da appendere o un quadro di un paesaggio bucolico era qualcosa che doveva essere un manifesto testamentario della loro conoscenza allora i più grandi sapienti sono riuniti marsiglio piccino picco della mirando l'agnolo poliziano cristoforo landino insomma tutti compreso botticelli ha detto adesso facciamo la primavera la facciamo in questa maniera e viene fuori un qualcosa che da brivido e l'intuizione la prima intuizione è stata per esempio giocando i personaggi di questa primavera che poi andiamo a vedere ci sono c'è zephyro zephyro il dio del vento e poi abbiamo le ninfe c'è cloris flori flora e poi abbiamo venere al centro poi abbiamo le tre grazie e poi c'è mercurio dalla parte opposta la prima cosa che è venuta facendo il talmud diciamo facendo una discussione con mia moglie cioè giocando allora chi è quello perché il primo personaggio il più spettacolare era il magnifico era lorenzo il magnifico perché usciva dalle fronde di alloro l'alloro era laurus lorenzo l'aus l'alloro lorenzo viene omaggiato con il lauro quindi quello che è un essere magnifico è il magnifico dio del vento che feconda clori allora se quello è il magnifico partendo da quello la prima intuizione che ha aperto la chiave di tutte le altre è stata questa cloris chi è cloris allora la linfa quindi c'è tutta la struttura narrativa mitologica che però non combacia è solo una scusa per poter fare un'opera pagana legata alla letteratura antica ma la vera struttura dice altro allora questa cloris nasconde un enigma linguistico clarice orsini è che era la moglie di lorenzo il magnifico allora appena mia moglie ha detto ma cloris clarice mi erano venuti i brividi perché cavolo abbiamo girato la chiave perché se quello lorenzo il magnifico perché ce l'ha loro perché poi c'è tanto altro ecco la chiave allora flora chi è flora leggerete nei libri che l'allegoria di firenze allegoria di firenze ok allora flora diventa chi ci può essere nella famiglia medici che omaggiano fioretta gorini floris diventa fioretta che era la donna di giuliano de medici fratello ucciso nella congiura dei pazzi di lorenzo il magnifico che aspettava un figlio che poi sarebbe diventato papa quindi figlio illegittimo ma diciamo che era già avrebbe parturito il mese dopo l'uccisione di giuliano quindi abbiamo cloris clarice flora floris fioretta che poi omaggia firenze perché era fiorentina lei l'altra era romana apriva le porte poi c'è quella figura al centro che è incredibile adesso magari guardiamo adesso la figura al centro nel libro perché dovrei aprirla così vi faccio vedere che il libro è ricco di illustrazioni che proprio bello è un libro ricco libro ricchissimo e non ve lo spoilerai qui adesso si vede si vede la faccio vedere l'apro l'apro dal computer al centro c'è venere la venere della primavera del botticelli alla figura al centro la cerco nel computer faccio un attimo questa venere al centro cosa fa ha un altro enigma linguistico perché intorno c'è i rami di alloro c'è i rami di mirto scusate i rami di mirto consacrati a prodite consacrati a venere quindi ramo di mirto e poi c'è un segreto meraviglioso lì dietro chi può essere perché c'è un gioco linguistico se l'alloro cita lorenzo chi ci mette chi perché questi rametti che gli spuntano dalla testa tutti incoronano questa persona chi c'era nella famiglia che aveva questo nome allora c'è la sposa di lorenzo il popolano lorenzo di piafrancesco de medici cugino di lorenzo che che apre chi era cui che ha commissionato a cui è stato regalato forse questo dipinto l'aveva in camera pensate cosa avevano in camera questo semiramide da piano da ragona chi è semiramide semiramide c'è il gioco linguistico vuol dire semis ramis semiramide quindi rami colei che porta il ramo cioè colei che prosegue la stirpe ed è la sposa che era promessa a giuliano però siccome lui è morto al centro hanno messo questa quindi tutte queste questi personaggi è incredibile fino all'ultimo perché ci sono vedico tutti no 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 io ti devo fermare ti devo fermare perché per diciamo per perché è così interessante coinvolgente che veramente invito chi ci sta ascoltando ad acquistare i segreti nascosti nelle opere d'arte per perché è meraviglioso guarda io vorrei solo dare una velocissima risposta alla tua domanda quando hai detto perché perché noi col cristianesimo ci siamo dimenticati che ad esempio gesù era un rabbino che non aveva scelto una strada la strada principale ma aveva scelto una teoria chiamiamola teoria secondaria che però era rivoluzionaria perché poneva una sorta di non violenza comunque una sorta di promessa rispetto a una lotta violenta una lotta armata e ci dovrebbe ci dovremmo ricordare delle radici delle radici ebraiche del cristianesimo noi tendiamo a se come abbiamo detto prima a separare cristiani ok nuovo testamento guarda hai preso hai preso in pieno uno delle uno degli argomenti principali che la maggior parte di noi cristiani ci metto anch'io fino a che non sono diventato un ricercatore parliamo da ragazzo se mia anche se avevo assistito al catechismo e non avrei non avevo non non sapevo che Gesù fosse ebreo perché a catechismo non l'ho capito non me lo dite chiaro che c'è Gesù era ebreo Gesù era ebreo c'era le sinagogie perché ce lo dipingono ce lo dipingono europeo ce lo dipingono mitte l'europeo e invece no aveva i capelli crespi scuri alla carnagione olivastra era un ebreo era legato agli esseni e c'era questo questo san giovanni che mistico che ancora sembra ancora più grande di Gesù da come viene raccontato perché viene prima perché era quello che ha battezzato Gesù sono ebrei sono tutti ebrei la maggior parte di questi uomini dell'ultima cena sono ebrei e allora se quella la nostra radice è quella la nostra matrice sembra quasi che ci sia ma sì un colpo di spugna è che da un punto in bianco c'è la chiesa è vero la chiesa è nata dopo la morte di Gesù fondata da chi l'ha perseguitato da chi insomma fondata su un insegnamento kerigmatico non su un insegnamento diretto perché non ci dobbiamo dimenticare che se vogliamo essere proprio legati alle date il vangelo più vicino il vangelo di quelli ufficiali più vicino alla morte di Gesù viene scritto dopo 40 anni noi sappiamo che il salto il salto generazionale intorno ai 30 33 anni grossomodo oggi ma all'epoca si viveva meno quindi diciamo che ci sono almeno due generazioni di differenza e l'esperienza che viene tra ricordata tramandata ricordata di nuovo e ritramandata assume poi connotazioni diverse io ho una domanda vorrei chiederti se tu hai mai vissuto la sindrome di stendal allora la sindrome di stendal ha avuto questa sindrome che l'ha colpito quasi con una sorta con un malessere malessere fisico e gli è capitato in un posto particolare santa croce a firenze dove è sepolto sono le spogne mortali di michelangelo è un luogo particolare firenze la città esoterica e da dai mille segreti dai mille è nato in un luogo particolare io non ho avuto malesseri non ho mai avuto malesseri però qualcosa che si avvicina si avvicina a qualcosa di estatico cioè qualcosa di talmente emotivamente coinvolgente che se ci si lasciasse andare come tu mi hai raccontato prima il tuo la tua prima di entrare in intervista se ci si lasciasse andare all'estasi che provocano certe opere d'arte c'è la commozione c'è il pianto il riso contemporaneo c'è qualcosa che succede solo quando c'è una connessione fra corpo fra cuore cervello dove c'è quel paradosso in cui si può piangere e ridere succede quando nasce un figlio con istante quando nasce un figlio chi magari l'ha provato o rarissimamente nella nella vita e l'arte è uno di quei privilegi che ci dona la sindrome più che la sindrome istandale questa questa incredibile emozione che anche qui io io sì l'ho provata l'ho provata di fronte al david l'ho provata di fronte al davidi michelangelo quando entrando alla galleria dell'accademia nonostante il davidi sia stato concepito per essere messo in cima al duomo quindi lontanissimo la vista doveva essere visto dal basso in alto lontanissimo è stato messo lì alla galleria dell'accademia vicino io quando l'ho visto dal corridoio lontano ho avuto un'emozione come quando ma avrei potuto lasciarmi andare al riso al pianto ha comunque la commozione allora una cosa così statica così fredda come potrebbe essere il marmo ma che si è plasmato da un genio da un pathos creativo che ha inserito in quella statua tanti di cui segreti che me li riesce a comunicare in un istante mentre io entro in una stanza da lontano lo vedo e io li ho capito che l'arte è qualcosa che va va onorata di più loro ci chiedono loro sapevano che prima o poi qualcuno sanno sapevano che prima o poi qualcuno avrebbe scoperto determinate cose non tutto qualcuno qualche aiutino ce l'hanno dato io dico il merito della ricerca nostra va io lo do a a un rabbino e e a un ricercatore hanno fatto un libro molto bello i segreti della sistina allora si chiamano roi dolina e benjamin black questo benjamin è un rabbino che ha deciso di dire qualcosa perché era ora di dire queste cose nella sistina anche se con la luci quello che ha restaurato la sistina nel suo libro ha scritto non ha escluso che ci effettivamente è rimasto stupito della corrispondenza che c'è nella nel brano della creazione dell'uomo dove c'è il signore volante quello avvolto dal drappo che quel drappo dipinto in senso cabalistico perché è un velo che separa la realtà dalla nostra realtà dalla realtà dall'oltre dall'assoluto forma un cranio la sezione perfetta del cervello dell'emisfero destro se voi guardate quella quel brano della tanto lo conoscete tutti andate a vedere il brano della volta del capellassistina cosa del signore volante c'è è la sezione perfetta del cervello è la sezione che ti fa vedere i gangli spinali la ghiandola pineale il signore proietta con quell'indice noi guardiamo l'indice non vediamo il cervello è un cervello è stato sempre un ebreo e mesberger si chiamava frank be mesberger che ha fatto nel 75 ha deciso di dire guardate alzato gli occhi al cielo quello è un cervello ma ce l'ha voluto dire la comunità ebraica ci ha voluto di buttare la un sassolino di svegliate visto questo che michelangelo ha messo questo codice in cui afferma mille cose apre mille porte se mi metti dio in un cervello e se mi metti una forma che forma altre forme cioè tu con i corpi formi delle composizioni che creano altre forme non l'avrai fatto solo lì perché ci sono centinaia di figure in quella cappella e tu hai insegnato al mondo questo quelli che saranno venuti dopo di te che si chiamano michelangelo merisi che al tuo nome avrà imparato qualcosa della tua lezione perché gli artisti sanno non lo sanno gli storici e certi critici non le sanno e non le vogliono e non le possono dire perché perché a libro paga del vaticano del dei musei vaticani non puoi dire queste cose perché entri nella teologia entri entri nel dire cose che loro non vogliono che si sappia perché poi il quel cervello quel cervello ripeto apre porte e vi faccio vedere quali porte aperto per esempio ma michelangelo l'ha imparato da botticelli e botticelli che aveva trent'anni di più di michelangelo quando botticelli ha creato quella primavera michelangelo era un bambino piccolo la tradizione fiorentina è entrata dalle corti è entrata in questo lingue che gli artisti i grandi artisti la sanno questa cosa allora c'è un codice che i corpi formano dei glifi formano un linguaggio quindi non sono più sinagoghe o come giustamente mia idea mi ha aggiunto la cultura araba islamica gli arabi hanno portato una civiltà un influsso una potenza nel rinascimento qualcosa che legato all'astrologia all'ottica alla scienza alla matematica qualcosa di enorme e si riversa nelle opere d'arte perché loro non facevano le figure umane facevano le lingue cioè la lingua era permesso dipingerla allora cosa ha trovato michelangelo un mix perfetto perché non mettere solo corpi nudi quei corpi nudi formano delle parole e ve lo dimostro con mai chiesto di vedere una cosa faccio vedere potrebbe saltare la connessione ok perché è per il programma che sto usando per la registrazione ok allora non ti faccio vedere nulla è nel libro allora nel libro possiamo però nel libro ok nel libro della faccio vedere dal libro nel libro te la faccio vedere dal libro intanto ti chiedo tu conosci la cappella sansevero a napoli e ne parliamo di alcune cose ne parliamo se parlavamo solo della cappella sansevero cioè per ogni opera qui servirebbe un libro però chiamo la la cappella sansevero il cristo velato la pulicizia è un miracolo è un miracolo anche quello miracolo quello che può far l'essere umano quando quando è ispirato quando è stato di grazia e anche lì è diciamo che il principe di sangro in questo caso era un esoterista dichiarato era un massone dichiarato era era lì l'esoterismo è proprio dichiarato ma dove invece è velato negato è più divertente trovare le cose perché lì ti dicono che non è vero e io vi dico che invece è vero e sicché me ne prendo la responsabilità allora nella libro la sua immagine qui è piccolina nel libro io ve la volevo far vedere se salta la connessione no però vediamo se perché nel libro non la vedete come ve la vorrei far vedere o se no cambio cambio telecamera così non ti tolgo nulla la connessione ho una telecamera che è sopra di me faccio vedere anzi vi faccio vedere intanto dei segreti uno degli ispiratori dei miei ispiratori questo è qua che mi sta ve lo faccio vedere maschietto femminuccia è un maschio è blu il libro inizia nella prima pagina dico vi leggo l'introduzione così capite il nesso che c'è con lui che è un caso incredibile che è un trovatello salvato pochi giorni fa pochi mesi un mese fa se state leggendo questo libro questa metà pagina e per qualche motivo l'avete preso tra le mani assaporatene qualche pagina con intenzione di trovare frasi parole segni che risuonino con voi qualcosa che vi faccia sentire che è quello giusto è lui che cercava voi e voi vi siete fatti trovare un po' come succede con i gatti che entrano improvvisamente nella nostra vita lui è entrato improvvisamente nella nostra vita nel momento in cui viene pubblicato il libro nel momento in cui entra nelle librerie è entrato improvvisamente noi pensavamo di salvare la vita a lui ma è lui che ci salva la vita a noi nel senso che ci fa ridere ci fa giocare ci riporta a una dimensione di stupore di meraviglia lo dicevo prima e allora torniamo a noi torniamo a noi e vi faccio vedere l'immagine con la telecamera sopra delle lettere ebraiche ora ne faccio vedere abbiamo parlato di lettere ebraiche vi ho buttato la della primavera del botticelli qui è piccolissima ma adesso vediamo il cambio telecamera si la metto velocemente allora è arrivato all'improvviso ah che bello allora qui qui è piccolissima in questa immagine c'è la venere del botticelli nella il braccio forma la vav forma la vav ebraica la vav ebraica è legata alla è incredibilmente legata poi ci sono anche altre immagini ma non ve le spoilerò tutte ci sono tantissime cambio telecamera è legata alla vav ebraica la ricambio allora ok è legata questa vav è legata a venere quindi è perfettamente calzante col significato esoterico del dipinto è legata al numero 6 è legata al maghen davidda allo scudo di davide quindi c'è c'è tutto è centrale al dipinto è un chiodo viene definita dovete sapere che le lettere ebraiche sono qualcosa di di mobile di estremamente mobile così come lo spirito è mobile così come l'intuizione è mobile così come noi dobbiamo essere elastici fuori dagli schemi se noi vediamo allora ci accorgiamo che c'è una lettera che combacia perfettamente col significato del personaggio che se poi lo andiamo a scavare a fondo c'è qualcosa di 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 incredibile e se poi scopri che tutte quelle lettere tutte quelle figure formano una lettera ebraica e messe insieme hanno tante storie da raccontare quello che viene fuori è incredibile allora questo secondo me il libro vale solo per questa sezione della primavera dei Botticelli vale ampiamente il costo del libro ma sono questa è un'opera delle centinaia che sono descritte nel libro e ognuna di queste ha questo livello di scoperta ed è qualcosa che cambia la lettura delle opere d'arte ma ce l'ha consigliato ce l'ha ci hanno aiutato nel dirci che nella sistina c'è quel cervello che anche Colalucci anche se Colalucci era quello che ha restaurato Antonio Colalucci è il restauratore che ha pulito e ha fatto un bel libro io e Michelangelo che edito comunque c'è la prefazione di Antonio Paolucci c'è ci sono le cose del sistema dell'arte specialmente vaticano tanto interessanti tanto belle quanto sempre quelle noiose sempre quelle ma lo dico perché io mi annoio nel leggere sempre le stesse cose quando ce ne sarebbero da dire di eclatanti allora anche Colalucci non butta via il fatto che effettivamente c'è qualcosa che fa riflettere ma lui non se ne occupa essendo un tecnico un meccanico dell'arte non è quello che pulisce e che restaura e il sistema non diciamo nega che ci siano questi messaggi un pochino con un pochino con l'accademismo porta al rifiuto delle idee nuove specialmente se non le hanno dette loro se non le hanno scoperte loro però io vi assicuro che c'è un livello di lettura sconvolgente delle opere d'arte vi faccio vedere questa allora ce l'ho nelle mani casualmente lì e quindi non ti apri i programmi questa qui è la crocifissione di San Pietro la crocifissione di San Pietro ha una composizione strana si sono accorti che è a X è a X ma non è a X è ad Aleph e ad Aleph perché l'Aleph cosa c'entra con con questa con questa chiesa che è a Santa Maria del Popolo che è a Roma dove ci sono due dipinti uno di fronte all'altro questo è la conversione di Saulo la conversione di Saulo che è quella del cavallo cioè quel cavallone è questa questa è la Aleph ora ovviamente non la stiamo a scontornare però se uno ci guarda è strana come composizione ecco il discorso che vi ho detto prima c'è un elemento strano che vi dice ma come mai cosa c'è di strano perché qui mette un bel un bel sederone ha un bel piedi sporchi i sederoni poi vai a vedere e leggi che il committente di questa di questa commissione di questa cappella è Tiberio Cerasi cioè vai a vedere è un banchiere tesoriere papale un direttore della sapienza cioè una persona con uno uno spessore culturale di potere enorme non penso che amassi gli operai a tal punto da volere questo un culo un culone dei piedi sporchi qui c'è il gioco ebraico che ti imbroglio e se scopri il codice scoprirai delle cose divertenti e c'è il gioco c'è il gioco il sofismo l'intelligenza allora l'ALEF l'ALEF cosa ci dice l'ALEF è come in alto così in basso è il primo il primo uno dei primi significati è quello e poi è legata a un significato esoterico che significa io sono colui che è io sono vuol dire l'ALEF è il primo numero e questo è San Pietro crucifisso a testa in giù ma è il ritratto del committente di Tiberio Cerasi quindi io sono l'ALEF poi c'è il gioco magico poi c'è la magia era compresa nella cabala nella cabala poi ci sono stranamente entriamo nel mondo dei tarocchi cioè perché c'è anche quell'antico libro egiziano che sono i tarocchi perché legato all'ALEF c'è il bagatto il mago cioè c'è la magia qui entra in campo qualcosa che dialoga di fronte c'è un altro dipinto è quello del cavallone la conversione di Saul l'avete presente quel cavallone enorme che è e sotto c'è Saul a braccia aperte ce l'ho ce l'ho nel libro che forma anche lui un'altra lettera quindi dialoga con in maniera impressionante è qua e qui devo cambiare di telecamera oppure provo così anzi la cambio tanto ormai e ve la faccio vedere perché è chiara allora forma il cavallone forma sono vediamo qui forma la tav la tav la tav quindi c'è all'EFTAV che significa adesso all'EFTAV di fronte che dialogano significa alfa e omega il significato dell'alfa e l'omega quindi c'è un un linguaggio viene fuori un linguaggio cabalistico sofisticato cioè io sono l'inizio e la fine che non era l'alfa e l'omega l'alfa e l'omega è la traduzione alef e tav è come erano scritti la bibbia era scritta in ebraico non in greco infatti e quindi loro mettono questa citazione alfa alef e tav uno di fronte all'altro che entra in un gioco anche lì c'è il gioco numerico c'è la tav c'entra in campo la magia la tav è una porta che si apre su altri mondi quindi ci sono tutti poi entra in gioco l'esoterismo della magia loro hanno fatto non solo due dipinti da mettere nel sepolcro questa persona ha pensato nel mio sepolcro dove sarò sepolto faccio un rituale e questo rituale dice addirittura che chi visualizza l'alef alef nell'atto della morte o comunque subito dopo la morte verrà salvato nell'esoterismo della mistica ebraica c'è in gioco qualcosa che è superiore che crederci o non crederci che possa essere un caso che ci sia l'alef e la tav perché se noi guardiamo torniamo all'elemento che ci fa Alfonso che ci fa ci rende strano se voi riguardate la conversione del cavallo viene camata a Roma non è la conversione di Sauro perché c'è un cavallone che addirittura nelle sacre scritture non compare il cavallo compare Sauro cade non cade da cavallo è caduto in terra non è citato nemmeno il cavallo allora questo cavallo è l'elemento estraneo è l'elemento che ci fa ci fa riflettere allora ci porta all'intuizione all'effetto ma c'è tanto di più questo è per dirvi che cosa può diventare la lettura delle opere d'arte perché questo è il primo accesso il primo accesso c'è sempre un'altra 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 lettura più profonda però quando arriviamo alle lettere ebraiche qui esistono poi i grimori esistono dei testi di magia che loro avevano loro avevano quindi capisci che quello a cui interessava queste persone era sì la mistica era la religione era ma c'era in gioco anche molto di più molto di più un rituale perché facevano questo facevano rituali così come un rituale la primavera del Botticelli rituali propiziatori per il potere per la buona riuscita delle nascite nella primavera del Botticelli sono tutte gravide sono tutte incinte cosa vuol dire come mai se ci guardate questo è un gioco magari fino adesso non ci abbiamo mai fatto caso ma sapendo che sono tutte incinte le andiamo a vedere e sono tutte incinte e vediamo vedremo sempre questa pancia ma una cosa ancora più incredibile fermami Alfonso se vedi che sto state per no no è veramente è incredibile ti chiedo di concludere quest'ultimo concetto perché poi ti ho delle domande sulla parte diciamo dell'Alessio scrittore perché mi incuriosisce una cosa ok allora concludo questa cosa dicendo semplicemente vi invito a guardare nel nel ah faccelo qui se non voglio farvi vedere faccio qui una cosa l'ho detto prima è la cosa più famosa che c'è nella nella volta della Cappella Sistina è quella che inizia tutto è quel è quel cervello che non il gioco è questo un gioco è trovarlo no pensavo alla pensavo alla per ritornare al discorso di prima noi da cristiani dimentichiamo le le radici e basti pensare che sull'ingresso della della cattedrale di Lucca c'è il famoso labirinto voglio dire quello è un monico ci sono ci sono continuamente in ogni facciata di ogni chiesa in ogni in ogni centimetro quadrato di opere d'arte antica ci sono messaggi ci sono codici ci sono enigmi e il bello di queste opere d'arte è che sarebbero tutte da se ci interessa se ci piace da intanto da osservare da studiare da divertirsi a capire cos'è che vogliono dire perché quando arrivi a capire il messaggio segreto tu non sei più quello di prima cioè sono una persona che ha compreso un messaggio che è venuto dal tempo è lontano ma te lo ha detto Michelangelo ha detto Botticelli Lorenzo il Magnifico cioè tu stai ricevendo un insegnamento direttamente dalle famiglie dell'elite è il loro insegnamento segreto che si curi del loro scrigno esoterico del loro potere dato dallo studio questa è la sapienza è riuscire a godere a piene mani di una realtà molto più complessa di quella che noi percepiamo è un dipinto è bello o bello non mi piace però non lo capisco c'è di più e c'è di più vi assicuro che basta assaggiare e uno assaggia una cosa poi gli viene fame gli viene voglia di andare oltre noi ci riempiamo la bocca nel cercare di spiegare che cos'è un lascito in che modo creare questo lascito per le in realtà ce l'abbiamo gli esempi e tu ne hai mostrati diversi senti io ho una domanda questo era il famoso cervello per dirvelo lo sapete lo conoscete tutti allora c'è il lobo frontale parietale tutti i gangli è una sezione per chi fa il chirurgo il cervello vede quello che sa chi ha fatto anatomia sa che quello è il cervello non ci può essere è la sezione non ci può essere dubbio o è un caso o loro sapevano l'anatomia allora lo hanno messo nel cervello Botticelli ha messo dietro a Venere ha messo guardateci dietro alla primavera dove c'è il mirto e i remetti ha messo due polmoni ma si vedono perfettamente e quei due polmoni creano una colonna la vava è una colonna centrale cioè c'è un messaggio cabalistico immenso vi fa entrare in una dimensione di scoperta che è come togliere dagli occhi qualcosa che il velo che non vi permetteva di vedere quindi le parole o aprono gli occhi o le chiudono allora usiamo parole che possano aprire gli occhi questo è il gioco nella ti chiedo due o tre risposte molto secche nel momento in cui hai creato il tuo saggio l'hai strutturato ti sei affidato più all'ispirazione o a una ricerca analitica metodica cioè in che modo hai scelto le varie opere allora la costruzione di un DP di una per quello che riguarda questo libro i segreti nascosti in un'opera d'arte nasce dalla raccolta dati è un po' come i dipinti quando uno deve fare un dipinto raccoglie come faceva Leonardo devo fare un cavallo non devo faccio il cavallo più bello prendendo i pezzi da da tutti i cavalli che vedo che mi piacciono allora devo fare un libro raccolta dati impressioni appunti decine di quaderni di libri centinaia per far nascere un libro ce ne vogliono centinaia alle spalle ispiratori quindi saliamo sulle spalle di giganti non è tutto tutto frutto della nostra scoperta ringraziamo chi ha seminato per poter salire sulle loro spalle ma una raccolta dati immensa caotica che poi un po' alla volta si struttura viene messa in bozze poi si trova un ordine nel caos si assembla si cerca di togliere perché in genere c'è tantissimo materiale a cui si deve dare una dimensione comprensibile chiara ordinata godibile quindi dopo nei tanti dati si arriva a togliere il troppo e a dargli una forma a dargli un'eleganza una bellezza c'è il rischio a volte di esagerare nel mettere troppe cose invece servono non ci serve l'eccesso di informazioni ma solo quelle che servono perché il libro ogni riga ogni pagina deve essere non ci deve essere una pagina in più nel libro ogni pagina deve essere bella godibile divertente e deve ogni riga ti deve insegnare qualcosa se c'è una riga inutile o una pagina inutile mi è sfuggita non è la mia intenzione deve essere solo quello che serve perché sia un libro godibile divertente appassionante questo è l'obiettivo grande raccolta dati un po' come ho sentito che faceva anche De André io amo tantissimo De André ho sentito che aveva questo metodo di appunti di caos di segnalibri le grandi divorature di libri e dal divorare i libri poi si aprono si aprono porte e si spalancano insomma opportunità e in questa maniera raccolta dati tanto tanta scrittura a mano perché il libro nasce prima scritto a mano in tanti quaderni poi viene ordinato pulito ripulito con una fase lunghissima di editing per togliere ogni possibile incrostazione o errore però alla fine non si ha bene la consapevolezza di cosa si è fatto come per esempio ho sentito una volta Checco Zalone che diceva alla fine del film l'abbiamo visto talmente tante di quelle volte corretto montato in determinato modo che alla fine noi non redevamo più del film e non sapevano più se facesse ridere o meno dopo ci vuole la sala che ti deve dare la risposta io non so più io e moglie non sappiamo più cosa abbiamo scritto lo sentiremo dalle recensioni dalla risposta del lettore hai una routine di scrittura amo scrivere su ispirazione amo scrivere quando ne sento la voglia il desiderio in genere scrivo non quotidianamente ma quasi anche in sorta di diario di appunto e ho imparato che ogni cosa che mi accade se non posso scrivere la registro a voce vocale e poi la scrivo perché l'intuizione come arriva se ne va se non la fermiamo subito si perde noi pensiamo ma si me la ricordo è incredibile se non la fermiamo subito la perdiamo allora consapevole di questo scrivo per piacere per non è così come dipingo per il piacere di farlo ma siccome mi piace lo faccio spesso Alessio parliamo di blocchi temporanei dello scrittore ti è mai capitato e quale consiglio daresti a chi si trova in questa fase della scrittura avviene sia il blocco dello scrittore che il blocco del pittore l'arte è un flusso che a volte sembra fermarsi è straniante è brutto che quando accade questa sensazione che la sorgente non ti fornisca più questo flusso il consiglio che posso dare è quello di non allarmarsi di non forzare nemmeno se non c'è la voglia di farlo non deve essere un obbligo però nemmeno aspettare che arrivi che torni una via di mezzo nel senso se vediamo che non abbiamo tanto stimolo né a dipingere né a scrivere soprattutto riprendere gradualmente un poco un poco alla volta perché nel fare poi succede che potrebbe ripartire il flusso la voglia di farlo quindi non aspettare che passi questo momento ma nemmeno mettersi per forza a forzare qualcosa che adesso magari la giusta dimensione sta nell'equilibrio nel mezzo quindi nel cercare nel cercare il momento giusto senza forzare come negli insegnamenti antichi dicevano che non passi un giorno senza una linea o una pennellata però non dicono stai tutto il giorno a dipingere o a disegnare la costanza fa miracoli ma non dobbiamo stancarci delle nostre passioni perché se ci stancano è troppo allora il giusto equilibrio il giusto momento perché poi abbiamo bisogno di fare di imparare di godere dell'esperienza della vita e non solo di scrivere o di dipingere Alessio tu hai esposto in Italia in Germania in Francia negli Stati Uniti in Turchia sei un artista tutto tondo insegni insegni anche online e sei consulente artistico per Teleromagna all'interno di tutto questo diciamo kaleidoscopico vissuto qual è il momento che ricordi con maggiore senza voler far torto a niente e a nessuno ma il momento che ricordi con maggiore emozione il momento che ricordo con maggiore emozione è relativamente alla beh parliamo di emozione ce ne sono tanti di momenti emozionanti perché esporre è molto emozionante ma anche quando è uscito il primo libro che è arte del risveglio è stato un momento molto emozionante perché ci si mette a nudo con un libro si esce si esce disarmati senza armatura in mezzo a in mezzo alle critiche quindi anche porsi in un determinato modo magari in maniera non dico provocatoria però un po' di provocazione c'è perché stimoli il lettore a essere incuriosito e un pochino di insomma un pochino di questa provocazione potrebbe provocare delle critiche allora l'emozione che ricordo maggiormente è legata le prime mostre le prime mostre personali soprattutto all'inizio quando la dimensione del ragazzo quando ero ragazzo ti porta a vivere le emozioni in maniera molto amplificata ora una cosa che noto che mi piace meno nell'andare avanti ora ho 50 anni nell'andare avanti mi accorgo che ci si emoziona sempre meno e che le sensazioni perché siano forti devono essere successi stratosferici quando da ragazzino bastava il primo articolo sul giornale mi ha emozionato era un ragazzino mi occupavo cercavo di fare i lavoretti come tutti avevo avuto 17 18 anni 20 anni i primi i primi articoli sul giornale mi hanno commosso mi hanno emozionato perché quasi insomma poi adesso l'articolo sul giornale non mi fa non mi fa più caldo né freddo e questo un po' mi dispiace perché deve essere sempre emozionato per questo il gattino mi insegna lo stupore mi insegna mi insegna avere occhi sempre sempre orecchie sempre attenti anche l'ascolto è molto importante a sentire le sensazioni però l'emozione la leggo soprattutto alle prime cose le prime volte sono emozionate senti vorrei farti subito una domanda che di solito lascio alla fine che cos'è per te la felicità la felicità per me è la felicità per me è beh vai leggero come domanda è di leggerissimo la felicità la felicità è fatta di piccoli 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 enormi cose piccoli enormi cose che sono legati alla mia famiglia cioè se nella mia famiglia la famiglia la mia figlia la mia moglie i miei affetti i miei animalini la mia se le persone che amo stanno bene io sto bene però la felicità è legata a una sfera io non sono semi realizzo professionalmente non sono felice posso essere soddisfatto la felicità è talmente una pienezza di piccole cose che ne servono tante per essere felici però ci sono nella vita pochi sprazzi in cui ci sentiamo felici veramente e io sono grato che ne ho provati diversi tante volte nella mia vita questi sprazzi di felicità la felicità l'ho provata quando per esempio si riesce a togliere le maschere si riesce ad essere sinceri ad essere veri a dire la verità e lì c'è un tipo di felicità molto molto grande molto gratificante però la felicità è già fare quello che amiamo fare ogni giorno riuscire a dedicarsi alla pittura al disegno alla lettura allo studio al tempo libero al tempo con la famiglia per me nella salute è quella per me già felicità di cui sono grato ogni secondo e la scrittura ha un potere magico che noi quando rileggiamo cose scritte un anno fa o due anni fa ci accorgiamo di come eravamo due anni fa e allora vediamo per esempio io mi sono accorto che due anni fa o un anno fa ero più grato nello scrivere cioè io scrivevo magari nel mio diario come si faceva tra che te io ho il mio diario in cui scrivo oggi è successo questo ero più grato e allora voglio tornare a essere grato come ero prima perché perché ho perso questa dilatitudine e allora è importante scrivere perché ci dice chi siamo chi eravamo e ci fa da specchio ci fa riflettere è una diciamo una speculazione che mi piace e scrivere è un grande atto catartico un grande confronto con noi stessi è un grande specchio quindi sei felice sono felice sono felice alessandroazzeni.it alessioazzeni.it il sito dove ti possiamo trovare e dove possiamo scoprire un vero e proprio patrimonio nel senso ci sono dei videocorsi che tu hai realizzato su varie tematiche vari argomenti alcuni più teorici altri più pratici e che ho notato in netta controtendenza rispetto ai tanti videocorsi che oggi vengono venduti a costi anche a mio avviso eccessivi invece nei tuoi ho visto un'etica ho visto una proporzionalità rispetto a quella che può essere veramente la spesa di un giovanotto di un liceale di un di un giovane studente dell'Accademia delle Belle Arti e l'ho trovato veramente diciamo che il prezzo i vari prezzi dei tuoi corsi mi fanno capire che c'è un'etica non solo nel corso nei corsi che hai fatto ma anche nella trasmissione nel senso che hai dato un valore onesto al tuo tempo ma un valore anche ma un prezzo un costo anche molto accessibile per chi desidera apprendere come è giusto che sia nel senso è giusto ricevere in cambio qualcosa in questo caso il costo del diciamo dei singoli videocorsi perché tanto hai dato in termini di valore di abnegazione di qualità e vorrei chiederti come è stato questo approccio alla didattica online come come mai hai deciso di diciamo aprirti a un mondo molto vasto come quello del del web in un certo senso per la vendita della delle tue competenze delle tue capacità allora sei raggiunto un po' spezzettato perché c'è stato un calo di connessione però ho capito ho colto il senso di quello che hai detto allora intanto diciamo che per apprezzare una cosa bisogna pagarla anche quanto giusto diciamo il senso del denaro il valore del denaro diventa in certe parti in un certo modo soggettivo perché per qualcuno una certa cifra può sembrare tanto per qualcuno fa ridere e qui però l'etica è che se sei motivato il prezzo di una cosa se non ce la fai adesso ce la puoi fare fra un anno e magari ti scopri scopri che quella cifra ti dà qualcosa di più io in un certo momento della mia vita ho feci un corso in cui ero molto dubbioso in cui ero molto prevenuto il pregiudizio è una cosa tremenda pensavo costava come questo corso di una scuola che non esiste più tanti anni fa parlo di avevo vent'anni e costava come un paio di scarpe la ginnastica normale non quelle che ci sono adesso ai miei tempi non c'erano quelle vabbè una cosa fattibilissima mi sembrava tanto ma quel corso mi ha dato così tanto così tanto che mi sono stupito di aver pensato che mi sembrava tanto prima di farlo uno deve pagare qualcosa ma dopo che l'ho fatto mi sembrava talmente poco che mi veniva il desiderio di dare più soldi a chi mi aveva insegnato tutte quelle cose e allora il valore delle cose diciamo ci deve essere uno scambio lo scambio deve essere etico io devo essere sentirmi ripagato e apprezzato le parole dicono già hanno già nel loro valore semantico se sono apprezzato e ripagato io sono appagato allora però voglio dare tanto e voglio che le persone che fanno il corso con me abbiano quella sensazione che ho avuto io quel giorno cioè un po' pago un po' mi scoccia perché i soldi mi servono cosa imparerò a disegnare imparerò qualcosa reputo un successo quando qualcuno ha finito il corso pensa di aver ricevuto di più di quello che ha speso ma molto di più quello per me è aver fatto quello che è il mio obiettivo dargli di più di quello che ha speso e l'approccio online è strano perché io nasco con il pennello col calamaio e non avevo competenze né digitali di nessun tipo questo è stata la figura femminile che mi ha dato questa competenza io ho trasmesso la mia lei ha trasmesso questa capacità di inserirmi nel web e la didattica online per me era qualcosa con il pregiudizio era qualcosa di obrobrioso di impossibile da fare poi ho scoperto la diretta online grazie al covid la crisi ha sempre l'opportunità equivalente superiore nel buio di quei giorni abbiamo per esempio scoperto che un insegnante a distanza di 90 anni può insegnarci ci ha insegnato ebraico a me e mia moglie è tre anni facciamo tutte le settimane ebraico grazie all'online ma quando mai con google meet con questo programma e io posso fare grazie a una telecamera e a una connessione dei corsi in cui la gente impara a disegnare a dipingere o a esprimersi in determinati modi con tante tecniche con dimostrazioni pratiche con una empatia con chi è dall'altra parte perché è in diretta e poi rimane registrato c'è qualcosa di registrato e qualcosa di indiretta che poi rimane registrato quindi c'è un'interazione anche fuori dalle elezioni però l'online a noi ci ha dato tanto perché fa uscire da un territorio ridotto magari nella Romagna ridotto a Cesena o Forlì dove vivo e invece diventa italiano e diventa anche straniero cioè non c'è limite a chi puoi comunicare allora il feedback che riceviamo di ritorno lo si legge dalle recensioni che non vengono obbligati a fare recensioni ci sono recensioni all'Accademia delle Grazie che il feedback è molto buono molto alto quindi siamo molto contenti e questo per me è la felicità è una parte della felicità cioè il poter essere realizzato da questo punto di vista nel dare nel dare questo servizio che secondo me con il pregiudizio era folle come cosa e col seno di poi è uno strumento utile perché come l'albero del bene e del male è come si è riversato nel web l'albero del bene e del male è l'albero della conoscenza il bene abbiamo sia il bene che il male sta a noi utilizzare con il libero arbitrio il bene o il male e l'online per dipingere per parlare ebraico per studiare ebraico per disegnare o per fare un'intervista come questa per me è il bene concordo concordo pienamente quali sono i tuoi progetti per il futuro? i progetti per il futuro è continuare a fare quello che faccio sempre meglio visto il successo del primo libro e questo entusiasmo che allora un'insegnante di ebraico mi ha insegnato tante cose è una signora che è una maestra che ha 90 anni Maria Angela è una fonte di saggezza mi ha insegnato che i famosi segni che noi chiediamo nel quotidiano per capire nella nostra vita che cosa ci succede se siamo nella strada giusta se stiamo facendo la cosa giusta chiedere il segno e poi accorgersi dalle circostanze cioè le risposte che arrivano ti fanno capire ti fanno sentire se stai facendo la cosa giusta c'è una connessione con il tutto e sentire dalle circostanze se quello che stiamo facendo è la cosa giusta il progetto per il futuro secondo secondo me visto che i segreti nascosti nell'arte nelle opere d'arte nasce sotto una buona stella nasce con Diarcos nasce con questo messaggero andremo a fare la presentazione ai prossimi giorni nel punto di approdo si parla di Caravaggio per metà del libro si parla di Caravaggio tra qualche giorno andremo a fare la presentazione nel punto di approdo in occasione di una commemorazione di Caravaggio quindi anche il segno che arriviamo con il libro fresco di stampa fresco di inchiostro a presentarlo dove Caravaggio ha fatto l'ultimo approdo documentato e poter parlare di lui è segno è un segno delle circostanze favorevoli i progetti per il futuro è continuare a fare quello che faccio sempre meglio c'è un terzo libro che sta nascendo scritto a mano e tante opere d'arte da fare e da portare avanti continuare a fare l'artista con etica perché voglio che chi si relaziona con me voglio che provino quello che ho provato io per i miei professori quando io ho provato una gratitudine immensa nei loro confronti allora voglio che quell'esempio di insegnamento venga tramandato perché perché l'obiettivo è questo tipo di insegnamento che amo è questo tipo di rispetto di empatia che si crea fra insegnanti perché l'insegnante è allievo che il vero insegnante è prima allievo è sempre è sempre è sempre allievo io mi sento sempre allievo e lo è fino alla fine Alessio io metto le mani avanti e ti invito già da ora per il prossimo libro ti chiedo però a nome di chi ci sta ascoltando di dare delle indicazioni un po' più precise per la presentazione la presentazione la presentazione che ho appena accennato sì di segreti nascosti allora i segreti nascosti questo è il 15 di luglio alla Dispoli la Dispoli c'è il porto di Palo dove Caravaggio c'è il castello degli Utescalchi in cui l'ultimo approdo si vede nel film di Michele Placido hanno ricostruito che hanno ipotizzato che la morte possa essere accaduta lì e poi insomma quello è l'ultimo approdo certo lì ci sarà il pomeriggio alle 15.30 e sabato sabato pomeriggio 15 luglio alle 17.30 scusate ci sarà una commemorazione in cui si parlerà di Caravaggio ci saranno tante cose e ci saranno i segreti nascosti delle opere d'arte io sarò lì come relatore a dire a presentare il libro e simbolicamente a dare a dare il là a dare il benvenuto nelle librerie di tutta Italia di questa creatura il fatto che avvenga in quel posto in cui noi citiamo quel luogo citiamo la Dispoli citiamo gli studi che sono controtendenza di Vincenzo Pacelli che sono studi di un professore napoletano che ha scoperto determinate cose quindi c'è tutto avventura romanzo anche nel saggio è pieno di di supposizioni di storie di racconti che si susseguono e quindi in certi momenti potrebbe diventare anche romanzo un romanzo insomma l'unica cosa la Dispoli nei pressi del castello nei pressi della spiaggia allora c'è è un luogo in cui c'è un Mori aiutami la Dispoli si è Roma ok ma mi dice nei pressi della spiaggia dove c'è dove c'è c'è una statua commemorativa di Caravaggio credo è segnata è comunque sulla spiaggia è sul lungomare c'è un gazebo c'è c'è una festa quel giorno lì non è al castello il sogno era farlo al castello proprio dentro al castello però il fatto che siamo all'aperto sarà catalizzante per il momento estivo e per perché ci sia più gente perché ci sia più partecipazione io vorrei ricordare a chi ci ha ascoltato fino a questo punto che i segreti nascosti nelle opere d'arte il saggio di Alessio Azzeni ed edito da Diarcos editore acquistabile è sullo shop online della casa editrice quindi andate su google digitate Diarcos editore è acquistabile da amazon.it trovate il link in descrizione vi invito il 15 luglio ad andare alla presentazione dei segreti nascosti nelle opere d'arte direttamente alla Dispoli e vi invito inoltre a seguire i profili social della Diarcos editore e di Alessio Azzeni che dire Alessio io ti ringrazio per questa fantastica lezione perché al di là dell'intervista è stata una vera lezione e ti auguro veramente di trovare queste di continuare a trovare queste chiavi di lettura perché c'è bisogno di più saggi come quello che hai realizzato e magari qualcuno in più di Alessio Azzeni dell'Azzeni ricercatore allora sì mi raccomando non quello quello che non sono io ce n'è uno che non sono io non il poeta non il poeta sardo bravo allora Alfonso io ringrazio te penso che siano fortunati anche i tuoi tuoi allievi perché comunque la capacità di ascolto di risposta di cogliere è molto attenta e sensibile e ti ringrazio per la bella intervista che mi hai fatto grazie grazie a te ciao Alessio ciao